Sono d'accordo che bisogna, con una buona norma, andare a chiedere prima ancora di interpretarlo. Diciamo che questi incontri e queste occasioni sono dei tentativi proprio di iniziare a chiedersi anche come si fa a loro andare e con quale approccio ci si muove in questo scenario che è completamente netto in cui abbiamo avuto non esserci più soltanto protagonisti ma anche spettatori. Probabilmente non si è degli interrogatori necessari, non si è degli osservatori necessari, non possiamo fare finta di niente e quindi vorrei appunto chiedere a Marcella in qualità, come dire, di chi la politica a suo modo la fa, che è stata fatta, che tipo di osservazione considerata, raccogliendo gli spunti molto complessi a decentrarsi, cioè a non applicare sempre le solite categorie, ma d'altronde queste categorie non funzionano non soltanto per l'Ugitto, non funzionano solo per l'esperienza che in qualche modo lei ci ha raccontato, cioè l'esperienza di chi vorrebbe riprendere, raccogliere, fare la politica senza quei ritornelli ritornelli della politica del passato. Lo dico in termini molto variati e molto di lunghezioni. Signora, io non ho nella capacità e nella possibilità di allentrarmi, soprattutto, non soltanto per l'evento che sicuramente offre una serie di grandi sposti, potrebbero essere anche meglio approfonditi e che soprattutto pongono un problema, che per esempio le donne si sono poste al inizio del loro movimento, cioè quello di non essere autorespidenziale, di andare a chiedere davvero alle donne che di che cosa avevano, qual era l'esigenza del momento, per quello che i problemi imponevano e come avrebbero voluto che si risolvessero. E questa è rimasta una caratteristica permanente del movimento delle donne, anche quando il movimento è diventato, come si dice, parso, c'è sotterraneo e poi di emergenza. Al punto che le donne sono riuscite in questi anni, per l'appunto, oltre ad aver fatto un movimento sicuramente più innovativo rispetto ai movimenti conosciuti nell'arco degli anni del Novecento, ma anche prima, cioè quello di un movimento non violento e un movimento che aveva la caratteristica fondamentale, come dire, di non porsi nella posizione di chi sta al comando, ma di chiedere coinvolgimento generale, cioè che nessuna è per seconda come nessuno deve essere prima. Ma questo è un po', anche se poi questa cosa non ha avuto sempre gli effetti che avremmo potuto avere. Oggi noi, donne, che pure nell'arco degli anni hanno cambiato il movimento di fare politica, molti di noi venivano, nessun po' di là, la terza esperienza è della politica degli uomini, e poi sono tornati a fare la politica delle donne, che è stata una proposta. Oggi, credo che, per cui l'abbè accaduto anche negli ultimi mesi di febbraio, che continuerà, io spero, le donne hanno dimostrato di essere le uniche in grado di davvero creare un grande movimento di massa, c'era stato quello dei carnetanici nel fumo scorso e che aveva motivazioni politiche forti e che, penso, si rivedrà anche nella prossima primavera. Ma per le donne è stato davvero un fatto straordinario, cioè che, seguendo le stesse vittime, le stesse metodologie passate, hanno però rinnovato il processo di imposto, organizzando in 15 giorni, certo, sono tenuti aiutati da una forte, come si dice, copertura mediatica, quindi non da sole, però non basta la copertura mediatica, se non gioca l'allegamento sul territorio come c'è per le donne, vada per tutto. Cioè, le donne hanno maturato in questi anni un rapporto di parità con le donne che permette loro di chiedere a momento fortuno i redditi disponibili. Cioè, tra noi sappiamo che quando, come si dice, chiama, la parte, in questo caso, le donne chiamano, le donne rispondono. E io credo che questo sia un fatto determinante in questa fase. Noi, con i Castellonazos, abbiamo avuto un incontro che non è stato immediatamente di quelli, come si dice, amorosi, perché loro erano ancora più, come dire, meno triturati di noi. Però è stato facile poi superare questa fase, anche perché probabilmente il fatto di avere una collocazione ancora più territorialmente definita ma li rende più facilmente, come dire, aperte a questo tipo di politica, vuol dire, è importante, è politica, in senso diretto, a di là del fatto che si può non chiamarsi inesilare. E noi oggi credo che abbiamo un compito fondamentale. Cioè, questi venti del Mediterraneo, in Italia scontra l'autosia troppo poco, però ci ha bisogno di uno tsunami per essere scontato al suono della sua circola. Io, per me, lo dico in senso un po' figurato, perché spero che non ci sia, anche perché non potrebbe via solo lui, sarebbe difficile che potesse riguardare solo lui. Però noi dobbiamo sostituire la violenza del tempo e della durata. ossia, noi dobbiamo zonare a lungo, non interrompere questo movimento, e fare in modo che lui ferda, come dire, si riesca davvero a aumentare il successo stamani. Cioè, stamani si è assicchiato due volte, una volta gli hanno detto buffone, una volta gli hanno detto dimentichi, divisioni, anche. Cioè, due luoghi diversi, l'hanno attaccato. Raramente è accaduto che lo scuola avesse un attacco così di massa nelle manifestazioni, perché evidentemente ha, come dire, ben organizzato, e rende impossibile promossi. Ma se vogliamo che questi movimenti abbiano uno svolto, che non sia quello di un ritorno, di un passato all'odernato, ma che si possa davvero poi essere, come dire, più tranquillamente, come i cittadini di questa area mediterranea, non si può far finire l'unione, cioè, noi non possiamo stare a guardare. Io sono stato aggrappato e sorpreso questo movimento, perlomeno per quanto mi riguarda, forse anche i sbossi di oggi sono sorpresi. Ma noi dobbiamo essere più pronti a rispondere, a sostenere la realtà. Ecco, io ho detto una cosa sola. C'è un figlio, un figlio, un figlio ecceziano, che mi sento di chiedere a lui, se il figlio ecceziano, se può farlo, di mandare un saluto alla famiglia di Sanlì, o di Sanlì, non so come, come si chiama, Zaran, la ragazza che, fotografata con i capelli al vento, in jeans, è stata uccisa, come sono stati uccisi quei due ragazzi, in fin di video, e che sono stati uccisi. Il tempo è stata pagata dentro, anche durante l'8 marzo, non ha avuto nessuna cosa possibile, dedicando a lei e portare la sua immagine qui nel corteo. Io credo che una cosa, cioè, gli uomini, le donne del Egitto, così come degli altri paesi, dovrebbero cominciare con, come dire, considerare alla pari una ragazza vostra durante la manifestazione e un ragazzo vuoto durante la manifestazione. Grazie. Grazie. Grazie.